Prego, se preste la relazione, Monica Andreotti. Buongiorno. Allora, cari amici e colleghi, con la conclusione della Presidenza Righi, al quale rinnovo la mia profonda stima, soprattutto dopo averlo visto lavorare più da vicino in questo anno. Ieri sono state spese tantissime parole per Paolo Righi, io dovrei aggiungere tantissimi altri aggettivi, ma concretizzo in due parole. Paolo è un uomo che ha la capacità di sintetizzare un mondo che ha bisogno di manager, ma veramente anche di uomini. Grazie Paolo. Dopo, dicevo, la conclusione della Presidenza Righi, avevo deciso, come voi sapete, di non ricandidarmi. Cosa mi ha fatto cambiare idea ad essere qui? Mi ha fatto decidere il valore della nostra federazione. Scusate, sono emozionatissima, ma non si vede, non si vede, non importa, va bene. Fate finta di non vederlo. Dicevo, il valore della nostra federazione è soprattutto l'amore che provo per il mio lavoro. Federazione alla quale sono scritta da quasi 30 anni, circa 29 per l'esattezza. E' un lavoro che faccio da pochi più anni, cioè l'agente immobiliare, anzi che faccio con passione l'agente immobiliare. Devo dire che sono cresciuta proprio con la federazione, credendo veramente in quella P che fa parte del nostro acronimo, cioè professionalità. Io ho creduto e ho lavorato veramente per quello. Una federazione che oggi, dopo appunto la conclusione della Presidenza Righi, ha effettivamente oggi più che mai bisogno di una squadra unita e di un programma condiviso che metta al centro la professionalità di noi agenti immobiliari. La voglia proprio di essere percepiti come valore aggiunto e non più come un costo. Io credo nella storia e in quello che è stato fatto. Credo che le cose buone non vadano perse, ma debbano essere migliorate e implementate. Non si può però neanche disconoscere il lavoro che è stato svolto in questi anni. Dal 2001 ad oggi FIAIP ha ridotto i costi da 7 milioni a 2 milioni e 400 mila euro. Da due anni a questa parte abbiamo deciso, abbiamo in Consiglio nazionale, abbiamo deciso di erogare più somme al territorio con il progetto di 55 euro. E qui apro una parentesi. Con il progetto di 55 euro, voi sapete che la quota associativa viene parimente ripartita al 50% al territorio e al 50% al nazionale. Allora è bello promettere tanti regali, più soldi a tutti, ma poi dobbiamo fare conti con le casse federative. Dobbiamo portare avanti un programma che uscirà da questo congresso e soprattutto portare avanti quella che è la macchina federativa. Siamo, vado avanti, le nostre società controllate chiudono tutte in attivo così come la stessa federazione. Siamo quindi riusciti ad uscire da una crisi laddove molte associazioni, banche, aziende purtroppo non possono dire altrettanto. Ma siamo riusciti ad andare anche oltre. Siamo riusciti a ristrutturare, a ripensare la nostra federazione dopo che la 141 l'aveva messa in ginocchio a livello economico. Come abbiamo fatto? Abbiamo creato Auxilia Finance, una società che oggi vale sul mercato oltre 10 milioni di euro. E lasciatemelo dire, qualunque leader ne saprebbe riconoscere il valore. Io credo nel futuro e nella continuità. Non si deve perdere ciò che è stato costruito. Sono qui perché credo in un programma che va proprio in questa direzione. Credo in una squadra unita che vede candidato alla presidenza nazionale Gian Battista Baccarini. Il mondo è cambiato. I tempi sono cambiati. Oggi serve lavorare uniti. E con tutto il rispetto per tutti i colleghi che prestano la propria attività e il proprio tempo alla nostra federazione, però mi chiedo come si può lavorare uniti presentando programmi frammentati e diversi? Come si può gestire una federazione e le sue finanze senza avere un chiaro e condiviso obiettivo comune? Me lo chiedo come tesoriere nazionale uscente che ha dovuto far quadrare conti in questo anno. Me lo chiedo però anche come agente immobiliare associata FIAIP, come donna imprenditrice e come madre di famiglia. E lo chiedo anche a voi. Grazie. 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 Grazie.